Avrebbe adescato minori sui social con i quali avrebbe consumato anche rapporti sessuali in un BNB di Bari. Un'insegnante 45enne è stata arrestata dai carabinieri del comando provinciale del capologo pugliese che hanno eseguito un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bari nell'ambito di un'indagine per corruzione di minori e pornografia minorile. Da quanto emerso dagli accertamenti la donna attraverso i social network mediante il nickname Zia Martina la scorsa estate avrebbe adescato alcuni minorenni e portati nel BNB. Nel provvedimento cautelare alla 45enne viene contestato di aver prodotto materiale pornografico facendosi riprendere nell'atto di compiere rapporti sessuali con un minore nonché di aver compiuto atti sessuali nel corso di una video chat intrattenuta con diversi utenti tra i quali anche un minorenne di 14 anni. Il provvedimento agli arresti domiciliari è stato eseguito dai militari del nucleo investigativo di Bari in una località del nord Italia dove la 45enne era al momento impiegata come insegnante di una scuola elementare. Le indagini sono state avviate dopo alcune segnalazioni di genitori che avevano notato uno strano comportamento dei figli spesso in anomale dirette social. Dopo le prime verifiche i militari dell'arma hanno svolto una serie di approfondimenti investigativi per ricostruire la vicenda attraverso l'analisi dei filmati e le dichiarazioni rese da alcuni genitori anche a una testata giornalistica online. Ulteriori approfondimenti investigativi sono in corso anche per capire se siano stati coinvolti altri minori.